La regione Piemonte si rende indipendente da Equitalia, allora che cosa cambierà? Sì, allora il Piemonte è la prima regione in Italia che entro il 30 giugno provvederà a costituire un ente di riscossione, chiamiamolo piemontese, staccato assolutamente da Equitalia che riscuoterà tutte le tasse locali, quindi l'IMU, le multe, cioè le contravenzioni al codice della strada, la COSAB, la TARSU. Questo è molto importante perché si creerà un rapporto più equilibrato fra il cittadino e lo Stato, esattore, e soprattutto scomparirà l'agio del 9%, che era il guadagno di Equitalia, diventerà il 4%, ma saranno soldi, liquidità che staranno nel territorio della regione, di cui potranno usufruire i comuni bisognosi e questo verrà elargito, quindi diviso fra l'ente di riscossione e i comuni che ne hanno bisogno. Questo è sicuramente positivo perché ci sarà una rete di sportelli capillare a cui i contribuenti si potranno rivolgere, non saranno più quelli di Equitalia, con un tipo al modello austriaco, cioè non sarà più il contribuente a accollarsi il compito di l'onere di dimostrare che c'è stato l'errore, ma sarà la stessa pubblica amministrazione che ammetterà quando ci sono degli errori nelle cartelle. Non si rischia di creare un altro carrozzone trainato per l'ennesima volta dallo Stato italiano? No, perché comunque non ci saranno spese aggiuntive perché verrà usato il personale della regione del settore tributi, sarà quindi una cosa assolutamente staccata da Equitalia e che dipenderà, presumo, dall'assessorato al bilancio e useranno il personale del settore tributi. Quindi non ci saranno costi aggiuntivi, anzi potrebbero anche diminuire i costi di certi beni e servizi della regione.